Il mio Dio, il mio Dio, è il nostro schicksale. Via subito da quella finestra. Anne dice che Dio non ha niente a che fare con questo. Dio sa tutto, ma Anne sa tutto bene. Mi prometti che restarei per sempre con me? Dio sa tutto bene. E tu cosa vuoi diventare? Io voglio esplorare il vasto mondo. Perché non vieni con me? Li hanno portati via? No, sono andati dai loro parenti in Svizzera. Dovevo andare anch'io. You're on the stick! Anni! Ich habe euch nie anders erlebt als zusammen. Immer zusammen. Velo mio migliore amico. Mi ascolti, Anna Questa volta oso risponde Anna è nel campo accanto al nostro Devo portarle del cibo Anna Anna, mi sei davvero tu Anna Vorrei che non ce ne andassimo mai